La figura dell'infermiere e la sua evoluzione negli anni e questo è il focus della giornata internazionale dell'infermiere, indetta per oggi 12 maggio in onore di Florence Nightingale, nata a Firenze il 12 maggio del 1820, meglio nota come la signora con la lanterna, è considerata la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, in quanto fu la prima ad applicare il metodo scientifico attraverso l'utilizzo della statistica e la prima a proporre un'organizzazione degli ospedali da campo. A Teramo la giornata internazionale verrà celebrata domenica in Piazza Martiri con il Collegio Provinciale Ipasvi, affiancato da altre associazioni come la Fidas, che incontrerà i cittadini per promuovere l'educazione sanitaria. Ci sarà una onlus di clown Zupiru che promuoverà appunto un sorriso per i bambini, loro sono spesso in prima linea in quelle che sono le unità operative di pediatria e quindi per apportare un sorriso ai bambini ricoverati. Ci sarà un'associazione di dietisti che quindi promuoverà anche quello che è un po' la forma fisica e quindi la tutela dell'alimentazione, di una sana e corretta alimentazione. Ci sarà l'Aios, che è l'associazione di infermieri per la stomaterapia, e ci saremo noi infermieri dove daremo delle brochure informative e dove anche daremo risposte inerenti a quella che è l'educazione sanitaria anche attraverso la rilevazione dei parametri vitali.